Amici vi propongo ancora un'altra prova molto interessante sulla produzione classica odierna di Pennini Aurora. Vedete sono tre e insomma adesso andremo a vederli e vi dirò delle cose molto interessanti. Allora vedete che le ottima riportano sul fusto delle scritte, vedete OM, OMR, OFR. Allora cosa vuol dire? O sta per obliquo, F oppure M è la taglia del pennino, R sta per destra, ok, quindi vuol dire che sono dei pennini obliqui tagliati in una certa maniera. Questo perché? Perché allora chi fa calligrafia lo sa bene, i pennini hanno un taglio, quelli da calligrafia, quindi i pennini tronchi da calligrafia hanno un taglio particolare che è fatto così, cioè il pennino impianta ha proprio un taglio, questa è proprio inclinato, cioè l'aumento è come se fosse così, ha un particolare taglio fatto così, quindi non è tronco così perfettamente in linea, in asse, ma riportano proprio... e qua il motivo quindi non sono così, cioè ce n'è anche alcuni così, ma la maggior parte hanno un taglio così, sulla sinistra hanno anche il taglio opposto e sono per i mancini, ok. Quindi questo mancino, questo dovrebbe andare più o meno per tutte e due, però normalmente si trovano taglio per destrimani e per mancini, ok. E quel problema si ha anche, però questi sono penini di grossa taglia di 2, 3, 4, anche fino a 5 mm. Sulle stilografiche il problema è analogo, anche se meno, diciamo, sentito, però c'è, diciamo che Aurora si è accorto che tantissime persone hanno dei problemi sulla prensione e questo l'ho rilevato a me anch'io e l'ho rilevato anche guardando molti dei video di cosiddetti recensori di stilografiche dove vedo delle prensioni terribili, ok. E quindi pazienza sulla stilografica, uno ne può sapere tanto, però quando uno mi arriva con una prensione che non va affatto, insomma, è una cosa, e recensisce penne stilografica, vabbè, comunque, il mondo è bello perché vario, va bene, però, insomma, almeno la prensione. Però non riguarda solo alcuni recensori di penne, ma riguarda anche molta parte della, insomma, delle persone che scrivono, cioè c'è una tendenza a ruotare spesso la penna, no? E anche questo è deleterio, specialmente su questi pennini fini, si rovinano i rebbi perché tendono ad accavallarsi, insomma, ci sono problemi. Un po' meno con gli italici, gli stab, altri pennini un po' più, diciamo, grossi. Però il problema, ecco, qua ho un italico, ecco, altra cosa, molte persone arrivano in Aurora, ma non solo in Aurora, in tutte le manifatture, ah, il pennino non scrive. Allora, il pennino italico, no? Il pennino italico ha una peculiarità, cioè deve essere portato in totale appoggio, deve essere così, non può essere così, perché molte persone o lavorano con la penna che gira a destra oppure a sinistra, questo pennino, allora, quelle con l'iridio tondo in punta più o meno permettono, insomma, questi errori. Questo pennino qua assolutamente no, perché così, così mi lavora, ma se comincio a tenerlo ruotato, vedete, non scrive più. Comincia a scrivere quando, ok, mi va in appoggio, ve lo faccio rivedere. Ok, la stessa cosa qua, vedete, comincia a scrivere quando va in appoggio, se lo porto così, eh, non scrive, perché non, il filo di capillarità non c'è, non appoggia, questa cosa qua deve appoggiare, se mi appoggia solo uno spigolo, eh, chiaramente non mi porta l'inchiostro, cioè, è una cosa fisica, ok? Ok, e quindi questi pennini qua, Aurora, per ovviare a quel problema, è andato incontro a chi ha quel brutto vizio di tenere il pennino girato, sia di qualche grado sulla sinistra che a destra. Allora, andiamo a vedere il primo, questo qui è per i sinistri, diciamo, per i mancini, eccolo qua. Questo qui taglia media, però lo si vede benissimo qua, allora, lo vedete che ha la pendenza come questo qua, guardate questo, e guardate nel dettaglio questo, ha una sua pendenza marcatissima sulla sinistra. Questo cosa significa? Andiamo a ingrandire. Questo significa che chi ha la tendenza a scrivere, quindi questo non scrive affatto in appoggio, o scrive con difficoltà, o se lo porto in posizione, vedete, lo ruoto sulla destra, non va, man mano che io lo ruoto, ecco, vedete, mi arriva, ma perché al taglio, che mi aiuta, quindi io per quelli che hanno la tendenza a girare il pennino sulla sinistra, ecco, questo qui è un pennino che fa per loro, quindi, ottima, e va, che è una meraviglia, taglia M, ok? Obliquo, pennino M. Quindi questo proprio deve essere, per scrivere bene, deve essere portato così, quindi deve essere portato girato, ok, perché vai incontro proprio alla postura, hai merata, ma, insomma, io capisco che è anche poi difficile, se hai 50 anni che scrivi in una maniera, non è che cambi in 30 secondi, quindi Aurora gli va incontro. Allora, qua invece vediamo il fine, e al contrario, questi sono appunto tagliati sulla destra, e il medio, e sono, ecco, ad esempio, pigliamo il gemello contrario, allora li vediamo qua, e vedrete che sono assolutamente divergenti. Allora, andiamo a portarci, ecco, lo vedete, questo qui è proprio al taglio destro, e questo qui è al taglio opposto, speculare, dall'altra parte a sinistra, ok? Ok, quindi abbiamo visto prima quello, e adesso questo qui chiaramente non scriverà assolutamente, o con difficoltà, vedete, se lo porto ruotato, assolutamente no, man mano che lo drizzo, vedete, adesso gli finisce l'inchiostro, non va più, ma riprende fiato quando lo porto nella E, questa è la sua condizione, quindi, questo mi scriverà quando è ruotato, vedete, proprio, mi faccio forza e lavoro col pennino ruotato, con pennino obliquo, ok, ed è M, anche se un po' più grande di questo, vabbè, ma sono pennini artigianali, e quindi tra uno e l'altro, insomma, questo qui è venuto un po' più spesso, però, vedete, devo ruotarlo in condizione, poi, è chiaro che più lo ruota, cioè, anche in base alla rotazione ho una differenza di tratto, cioè, scrive bene, ma, seppur lo ruoto, man mano che lo ruoto, mi cambia leggermente la scrittura, qua è leggermente più piccola. Vediamo l'altro, quindi, col taglio sempre questa fine, quindi andiamo a vedere quest'altro, e ho sempre, sì, è un po' più piccolo il tratto, allora, molto scorrevoli, e lo vedete, funziona solo così, perché, appunto, se sono così, vedete, ha problemi, non mi lavora, devo portarlo, quando lo appoggio va già bene, ma il top lo raggiunge, la scorrevolezza massima ce l'ha, quando vado ruotato, no? Quando lo ruoto, quindi, taglia F, ok? Niente, quindi questa è una cosa ulteriore, che, appunto, come dice Filippo Loghero, i pennini vanno, diciamo, calzati sulla persona, e con Aurora si può fare, è chiaro che, per avere l'optimum, bisogna rebandare là, e parlare con Filippo, e fare, insomma, perché lui poi già vi vede scrivere, e vi taglia addosso l'abito scrittorio, ok? Quindi, quindi, questo è veramente uno stare vicino alle persone che amano scrivere, perché lui vi cucia addosso la penna, cioè più che altro il pennino, a seconda delle vostre tendenze scrittorie, che, ripeto, purtroppo ognuno prende, insomma, questi vizi, tra virgolette, e poi si riporta dietro queste cose qua, perché anche i corsi di calligrafia, la prima cosa che guardo è la prensione, perché non si può, non si può usare una penna se non ho la prensione a pinza, fatta bene, perché non vi dico cosa vedo nei corsi, ok? E quindi, e dico, beh, voi siete aspiranti calligrafi, oppure amanti, appassionati, e per favore non potete tenere la penna stilografica o il pennino come fosse una zappa, perché va da lì, cioè parte tutto, ma anche proprio il comfort di scrittura, non solo la qualità di scrittura, ma anche il fatto di scrivere male, oppure perché i ragazzini, insomma, hanno problemi discogliosi, insomma, sollecitazioni alla spina dorsale, insomma, alla colonna vertebrale, perché portando spesso loro, le prensioni sono le più incredibili, ecco, lo vedete, allora, io devo fare questa M e non vedo, il pollice mi copre la lettra, se sono così, o la vedo, e chiaramente, quando sono in queste condizioni che ho, sono coperto dalla visuale e dalle mie dita, devo portarmi giù con la testa, di lato, e quindi far fare la colonna dei, insomma, dei super lavori che possono portare danni permanenti alla medesima, quindi, la prensione, prima di tutto, sempre, specialmente per chi fa recensioni di penne stilografiche, ricordatevi, la prensione, prima di tutto, perché poi può essere anche, cioè, non dovete scrivere come me, perché io sono un professionista della calligrafia, però, mostrate un esempio corretto di prensione e di uso della stilografica, per favore, ok? Boh, con questa vi saluto, grazie come sempre a tutti, ciao. Grazie. Grazie.